Bella a tutti ragazzi qui è TolaFra che vi parla e oggi siamo tornati con un nuovo video Avrete visto oggi alle 14 il video di Clash of Clans, il primo del canale, vi invito ad andare a vederlo se non l'avete ancora fatto Ed oggi, ed ora, alle 19, quindi torniamo con nuovi attacchi Praticamente la linea è ancora quella, non farò nulla di particolare, consigliatemi voi qui sotto se volete che io faccia qualcosa Posso anche gemmare, se vedo che la serie vi piace, se vedo che lasciate tanti feedback positivi, tanti commenti, tanti like Gemmerò tranquillamente per portare un po' più su il nostro villaggio Sono curioso di vedere com'è questo spacca tutto, quindi per togliermi comunque la curiosità direi di provarlo E sono curioso anche di vedere come inserirlo all'interno di questo villaggio Direi che una valida alternativa sarebbe quella di spostare queste difese qua e posizionare lo spacca tutto in questo modo Dunque, spostando qua, secondo me ci si libera un posto in più esatto che potrebbe essere tranquillamente occupato ad esempio da questi Dunque, spacca tutto, non ha una grandissima area Ok, mi aspettavo qualcosa di un po' meglio, però vabbè, ci sta Vediamo, vediamo, laboratorio stellare Allora, la parte di cui necessitiamo di più è questa Se riusciamo, no, non riusciremo mai a fare il giro alle truppe Quindi però, se riusciamo a metterla qua Già ci migliora qualcosa Quindi, disposizione appena cambiata Portiamo la miniera d'oro da qua e il deposito d'oro da questa parte Per il resto, torre dagli arcieri va bene così Tesla va bene così Questo va bene così Ci siamo, ci siamo Possiamo passare all'attacco Abbiamo ancora la possibilità di un bonus Quindi passiamo alla battaglia E vediamo come va Cosa sta sistemando? Oddio, sta sistemando mi sembra quello che è una mina, sì Quindi, ha due difese aeree da questa parte Ha due difese aeree da questa parte Ma io non riesco a capire come possa sfruttare questo fatto Perché qui ci saranno sicuramente delle bombe Scusate, dei trampolini Quindi non ce la faccio Però posso passare ancora la tecnica Archers and archers and archers and more archers Sempre arcieri Vediamo se funziona Tanto la torre qua è molto a sinistra Quindi puntata essenzialmente in una zona vasta Ma con un ratio di fuoco relativamente basso Qui forse ci arriva già Andiamo Ok, no, si concentra da quella parte La Tesla Eh, ci arriva ma Non è che lo faccia molto facilmente Quindi direi che Se riusciamo a concentrare le nostre difese qua E a buttare giù con la torre degli arcieri Già saremmo un po' più a cavallo Mi metto da questa parte Perché dall'altra parte avete visto che c'è Tesla Cannone Cannone da tre colpi E Gli arcieri vanno giù molto facilmente Eh, già quest'arciere qua Oddio Oddio Ok, no La speranza c'era Che prendesse il municipio 57% L'avversario sta ancora attaccando Se vinciamo questa Ci portiamo a casa Un ottimo bottino E E dovremmo essere Un po' più tranquilli Con il nostro 57% Sono curioso di Vedere come ha Come ha Avuto effetto Se ha avuto effetto Lo spacca tutto Naturalmente Contro Carte Eh Che prevedono Un utilizzo di tale Tale difesa Eh Quindi non certo con i minion Se mi attacca con i minion È un po' dura Vedere l'effetto Dello spacca tutto Non posso migliorare qua Non posso Le mura sinceramente In questo momento Non mi servono Ah, sono curioso Ok, non ho vinto Replay 100% Raga L'ha attaccato con i minion E con i giganti Però guardiamoci le replay Eh Ovviamente con Ok Gigante Fatto fuori L'altro gigante Su cui si concentra Tutte le difese Verrà fatto fuori Purtroppo Quello con poca vita Viene fatto fuori Eh Però 100% Come ha fatto a farlo È riuscito a buttarmi giù questa E poi ha utilizzato Soltanto i minion Però c'era anche la tesla Io dico Come ha fatto con Come ha fatto Cioè Sono curiosissimo Scusatemi ragazzi Ma Ah Ok Se l'ha giocata Se l'ha giocata Da dio Non ho guardato neanche Lo spacca tutto Perché alla fine Avevo capito come Come era l'andazzo Eh Eh Qui cosa fa Fa più danno No Capacità della trappola Ah Spinge più lontano Da quanto ho capito Giusto Sì 5 più 2 Quindi Presumo che Li spinga più lontano Però non me la sento Non posso migliorare neanche questo Quindi direi di migliorare una difesa Ad esempio Il cannone da 3 colpi Eh Averlo fuori uso Non è affatto Non è affatto una buona idea Però Vabbè Giostriamocela così Vediamo come va Vediamo se funziona Villaggio strano Anche questo Si stanno proponendo Dei villaggi molto strani Che però Che però Possono essere Buttati giù con Con dei giganti Giganti E a seguito I I minion Si può essere Può essere Proviamo Proviamo Tanto Raga Da perdere abbiamo ben poco Quindi Gigante 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 Ok No Ho sbagliato Scusate Ho sbagliato Ho fatto un errore Ma do Perché vado qua Ok va bene Va bene Non mi lamento Non mi lamento Del fatto che siano andati Proprio in culandia A livelli massimi Eh Dai 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 Buttate giù Eh raga Purtroppo Purtroppo I giganti non riescono a Ah merda Accialadra Eh Non riescono a tancarsi abbastanza Per consentire i minion Soprattutto perché i minion Sono molto Più lenti Di quanto pensassi Ne ho buttato via uno Però Però ha buttato giù la Tesla Regà Regà Arriva Arriva Il tanto agognato Municipio Ci arriva La torre degli arcieri Resiste abbastanza Da Crearci dei problemi Madonna Oddio no Oddio 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 Con quale poca vita Avremmo fatto 100% In In me che non si dica 60% Quindi due stelle Ricordiamo che a casa Abbiamo fuori uso Il cannone doppio Quindi Eh Vincere Oh Vincere sarà dura 30 Come ha fatto a fare un 32% Con un cannone doppio fuori uso E perché ha puntato Vabbè Non mi faccio domande Sono curioso di vedere l'attacco Però Intanto che aspettiamo Alla fine Vediamo il replay E vediamo come Come se l'ha giustrata Questo Embry hammer Ok È andato sui punti di Percentuale facile Anche se tanto facile non era Visto che Alla fine Il cannone ci arriva Quindi non sono proprio free spot Di Colpi facili Qui Ovviamente hanno evitato Tutte le trappole Di Di salto Poi Gigante Vita Molto breve In mezzo a tutto quel casino Lì Non ce l'avevo mai fatta 58 secondi Per il resto Devo trovare un modo in cui Impiegare il mio lisir Mancano pochi minuti Qua All'arciere All'arciere Furtivo Tra l'altro Non è che è un arciere Normale No Lui è l'arciere Furtivo Manca pochissimo Diamo un'occhiata Dunque Al da farsi Non posso Non so come facciano Il problema è che Non si può Non si possono avere più Più muratori di così Almeno due sarebbero stati Molto più utili Anche se Tutto sommato Se ci pensate Senza gemmare Avere un bottino Così elevato Da consentire Di avere Due edifici Da buildare Allo stesso momento Non è facile Quindi ci può anche stare Questa scelta Io regà Non penso di cambiare La disposizione Però sono curioso Di andare a vedere Nella classifica Globale Le prime disposizioni Quindi andiamo a vederci La disposizione Di questo Di questo tizio Che è primo al mondo Ebbè Ebbè Multimortaio Torre dell'orologio Che non ho neanche idea Di cosa faccia Velocizza Sto registrando Ok Entra mia sorella Ovviamente Velocizza No Cos'è che fa Velocizza Le cose Del tuo villaggio Raccogli risorse Gestico Suisi Madonna Ma è una roba assurda Poi il cannone Fantastico Sta grafica Regà Ve l'ho sempre detto Clash of Clans Sta grafica Cartunesca Mi fa Impazzire Da morire E poi vabbè Ovviamente la macchina Da guerra Che spacca i sederi A go go Vediamo già le prime disposizioni Serie La mia è ancora Una disposizione Con gli stuzzicadenti Però passiamo all'attacco Non mi arrendo Neanche di fronte All'evidenza Del fatto che La mia disposizione Sia un po' più Smarcia Delle altre Eh Fare un attacco Passare un attacco Di Potrebbe 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 funzionare ancora E io dico Un attacco Se riesci a buttare giù Questa Proviamoci Proviamoci Non abbiamo Molto da perdere Se non Ovviamente Delle battaglie Quasi importanti Non so Non sono sicuro Del raggio Della Di quello Schifo qua Di torre Maniaca Lì Quello che è Tesla Ok se va giù quella Siamo a cavallo Basta che vada giù quella E già Municipio È andato Ok Municipio va Pensiamo Come fare Ovviamente Per fare Il massimo percentuale possibile Di qua Colpo Dalla distanzissima Vabbè Il municipio va giù Di là Si sposterà di qua Non voglio Non voglio sprecare Neanche una truppa Se la sgancio qua Poi Ok no Sganciamola qua Così poi va da questa parte Perfetto E mi colpisce anche questo Per il resto Se andassi da questa parte Avrei Uno Due Due E tre edifici Conveniva andare su quella torre Lì Perché adesso non sono sicuro Che si muova su quella Lata Eh questo è stato un errore Non indifferente Che però Mi Diciamo Ok non me lo risolve Non me lo risolve Ecco Questo errore Regà è stato madornale In clash of clans Se fate degli errori Di questo Ah no però Allora bisogna vedere Se questo raggiunge Questa Oppure raggiunge Il cannon Ok raggiunge questa Perfetto Allora niente Un errore che è stato Rimediato dal Dall'astuzia degli sgherri Ci portiamo a casa Quello che è un Sessanta Quattro Non lo so Per cento Sì sopra il sessanta Siamo sicuri E arriviamo Infatti Al sessantatre per cento Eh Terminiamo la battaglia Tanto qui è chiaro Che Non ce la faccia Vittoria Vittoria Replay Sei giganti Ci ha provato Regà ma ovviamente E' bello anche guardarsi I replay Perché Avete la possibilità Di accorgervi Di come funziona Quello là salta in aria Perfetto Fare un attacco Solo giganti Con dettato a disposizione Non funziona Ve lo dico subito Abbiamo Tesla E Spacca tutto Dalla stessa parte Abbiamo cannone E Cannone dalla stessa parte Torre degli aceri Non è tanto influente Però Con tutti questi salterelli Eccetera Io non la farei Mai un attacco Solo giganti Su questa Su questa disposizione Passiamo All'ultimo attacco Non so Ok no aspettiamo Non so Quanto Quanto Tempo stia registrando Io mi auguro Vi invito ancora A lasciare un bel mi piace Se volete Che questa serie Continui Ve lo dico Io mi diverto A me piace Sto arrivando anche A mille trofei Quindi Se a voi piace Io sono ben contento Di portarla Probabilmente Non farà tante visualizzazioni Non lo so Tanti mi piace Io proverò A portarla più volte Sarete voi Magari col tempo Ad affezionarvi Anche perché Vi ricordate Se vi ricordate I tempi di Clash of Clans C'è ancora Tanto Da dimostrare In questo gioco Passiamo Alla battaglia Ed ecco Questa è un'altra Disposizione In cui In cui Non posso Non posso Utilizzare La tecnica Che avevo previsto Del Dei minion E Amici Felici Qua Come si chiamano I giganti Però Potrei fare Una Whole Heart Che non fa Mai male Vedete Se avessi Il potenziamento Che potevo gemmare Ma io Ignorante Non l'ho fatto Qui Forse Me lo prende No No Ok E' abbastanza distante Da questa parte Me lo prenderà Ma Non mi prende Il cannone Se vado Vado di qui Dunque Perfetto Andiamo con Archer di qua Ah Merde C'era da aspettarsela Questa Tesla C'era da aspettarsela Vediamo Uno Due Dovrebbero far giù la Tesla Senza problemi Senza neanche farsi Ah ok Senza farsi colpire No Se riescono a far giù Lo spacca tutto Ehm Non lo Non penso Vediamo qua Ok Quanto meno Sono riuscito Di qua Ed ora Direi di andare Con una violenza Inaudita A buttar giù Lo spacca tutto E a farci valere Da questa parte Sul municipio Che va giù Perché va giù Con tutti questi aceri Riesce ad andare giù Non ci portiamo a casa Un'altra per gestuale Il problema è quello Non siamo riusciti A portarci a casa Un'altra per gestuale Ero convinto Che da questa parte Ci fossero Eh però Rischiavamo Rischiavamo Un 47% Ero convinto Che da questa parte Ci fossero Le difese più lontane Altra vittoria 38% Mi gusto E poi vi saluto Regà Perché altrimenti Dura un'eternità Intanto ancora Come l'altra volta Stavo uscendo Dal video Si ha provato Ad attaccare Da un lato Chi avrebbe evitato Tutte le trappole Ma Ma Non ha Non ha avuto successo 38% Abbiamo fatto appena Poco di più 40% Regà Dato da fare tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Pollicioni su Supportate con commenti Like Qualsiasi cosa Da troppo è tutto Ci vediamo alla prossima Ciao